chat qui su youtube in diretta e sui nostri canali social questo non può che farci piacere perché vuol dire insomma che sono di interesse i talk che abbiamo presentato durante questa edizione online degli O2 Days 2020 allora l'invito è ovviamente a rivederci domani mattina sempre alle 10 per la seconda ed ultima giornata degli O2 Days ma adesso chi vuole può collegarsi sul canale discord adesso magari mettiamo anche il link sulla chat di youtube per poter iniziare a fare i ragionamenti utili a pianificare la migrazione della realizzazione italiana dalla versione 12 alla versione 14 per cui adesso è il momento di rimboccarsi le maniche e di iniziare a dare il nostro contributo. A voi tutti ci rivediamo domani alle 10 sempre su questo canale ciao 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 ciao